Grazie a tutti. Sono Giuseppe Santoyema, il project manager, come supervisore generale, vorrei darvi il mio saluto e personale ringraziamento per l'interessamento e la partecipazione. Ho giusto due parole ai miei due partner importantissimi, fondamentali, Marilena e Francesco. Sì, anch'io vi ringrazio molto e siamo molto contenti, anzi stavamo pensando in una seconda edizione perché noi pensiamo sempre oltre. Ancora non è finita la prima, già vogliamo farne un'altra perché abbiamo avuto una bella risposta anche da parte vostra e dei partecipanti. Quindi grazie ancora e ci vediamo presto. Grazie anche da parte dello staff di Tournel Sud. Niente che dire, in questi cinque giorni abbiamo riscontrato un successo sperato ma inaspettato, sia dal punto di vista dei contenuti, operatori che abbiamo conosciuto, gente e anche parte delle istituzioni che sono interessate al workshop, ai seminari e ringrazio appunto tutti voi anche per questa giornata. Volevo introdurre subito Ottavia Ricci che abbiamo convocato per oggi e siccome siamo un po' stretti con i tempi, l'introduzione poi di tutto il modulo, magari la facciamo dopo, anche grazie. Perfetto. Devo parlare qui? Ah, so già il microfono. Niente, io volevo soltanto rubarvi proprio pochissimo tempo, volevo ringraziare Antonella dell'organizzazione di questo evento e ovviamente tutti coloro che hanno fatto il lavoro grande per l'organizzazione dell'evento. È un discorso molto importante quello che si sta affrontando in questo momento perché non ci si può fermare al semplice discorso agrituristico o al semplice discorso così generico, sì andiamo nella natura appunto e basta. No, dobbiamo andare oltre, dobbiamo fare di tutto questo una cultura, dobbiamo recuperare quella che è la vera cultura dello stare nella natura e di usufruire di questo ambiente a noi così favorevole e soprattutto farlo diventare occasione di incontro prima di tutto e anche quindi come sviluppo economico del territorio perché noi come amministrazione ci siamo orientati in questo senso, ovviamente il territorio di Cassano delle Murge non è assolutamente un territorio destinato al commercio, all'industria o a cos'altro abbiamo uno territorio bellissimo, abbiamo una natura splendida che dobbiamo comunque rivalorizzare tra l'altro in questa natura ci sono delle piccole perle preziose tipo la grotta che avete visitato oggi c'è un'altra grotta che io spero fate un altro incontro perché vi faccio visitare la grotta di Santa Candida che è una grotta particolare, è al di sotto di una costruzione, cioè della scuola media è stata inglobata nelle fondamenta della scuola media e stiamo facendo un intervento di recupero e di accessibilità perché sì, si può entrare ma purtroppo bisogna scendere una scala molto molto pericolosa e bisogna recuperare tutti questi beni che sì, è vero, significano recuperare il nostro passato per avere contezza del nostro presente ma sono soprattutto l'espressione di una cultura che in passato è stata molto molto più ricca di quella che c'è adesso, a mio modesto parere perché io ritengo che la cultura che c'era prima in questo territorio era veramente preziosa io vi saluto, vi auguro un buon prosieguo di lavoro e vi aspetto per il prossimo anno Antonella ti lascio questo incarico e ne riparleremo ma ti porterò la chiusura dei lavori sì, benissimo, ma comunque per il prossimo anno avremo concluso il lavoro a Santa Candida e credo anche qualche altro lavoro per quanto riguarda il turismo naturalistico e il recupero dei punti di incontro e della socializzazione nella natura grazie, bravi prima di passare la parola ai relatori, alla dottoressa Ricci giusto un'ultima importantissima menzione per ricordare che questa iniziativa Laboratori dal Basso è stata promossa dall'Arti, l'Agenzia regionale tecnologia e innovazione e dalla regione Puglia grazie al quale appunto senza questo prezioso contributo non avremmo mai potuto dare vita a questa serie di iniziative sul territorio che cercano, diciamo, hanno come obiettivo comune la nostra come quello di tanti altri laboratori di migliorare le possibilità di impresa e di sviluppo sul nostro territorio grazie a tutti e vi lascio alla narratrice di oggi, a dottoressa Ricci allora buongiorno a tutti parecchi di voi li ho già incontrati durante questa bellissima passeggiata che mi avete fatto fare e direi che intanto lascio comunque scorrere un po' delle immagini perché secondo me è importante che ci rirendiamo conto del potenziale che abbiamo cioè l'Italia veramente è un paese che dovrebbe dal mio punto di vista avere come primo fattore economico quello del turismo perché siamo il paese con un patrimonio storico, architettonico, culturale immenso ed è un patrimonio fatto dalle persone io sono circa tre anni e mezzo che vivo a Berlino la mia è stata una scelta ho deciso di andarmene via perché mi ero scocciata dell'Italia ero molto disillusa molto delusa in primis come donna e vabbè in secondo per quello che stava succedendo mi sono sempre occupata diciamo di sostenibilità ho avuto questa fortuna nella vita di incontrare in tenera età all'elementari di fare un corso di agente ecologico a Roma vennero quelli della nettezza urbana i netturbini io amo chiamarli così perché penso che sia un termine bellissimo più di agenti ecologici mi piace più il netturbino è dignitoso e ci insegnarono ci diede il patentino di agenti ecologici cioè ci insegnarono a riciclare parliamo degli anni 70 io ho quasi 41 anni quindi insomma tanto tempo fa e da lì sembra strano ma la mia vita si è orientata su questo tipo di sviluppo sviluppo sostenibile mi sono laureata in storia contemporanea ho fatto una tesi sulla commissione europea quindi sono diciamo più o meno europeista con i se e con i ma e poi sono partita per l'Inghilterra e ho fatto sono stata tre anni ho lavorato per una società che faceva riciclo nella moda italiana sempre italiani la nostra creatività questa società praticamente noi siamo partiti comprando i cashmirini di seconda mano nei mercati italiani o a Portobello Road il cashmere normalmente il golf di cashmere vi racconto tutto bene perché dovete proprio capire come nelle cose più semplici in realtà c'è un mondo da sviluppare io questo l'ho imparato nei miei percorsi noi praticamente compravamo i golf di cashmere perché? perché i golf di cashmere sono quelli che si tengono si conservano meglio nel senso che la gente finisce la stagione li lava li rimette a posto li rimette dentro gli armadi con la naftalina la cosa quindi molto spesso erano quelli diciamo mantenuti meglio però avevano qualche buco e noi abbiamo cominciato a lavorare sui buchi e a metterli in risalto con l'uncinetto beh io vi posso dire che quando sono arrivata io questa diciamo azienda già aveva cominciato era condotta da due donne che lavoravano con delle donne immigrate dalla Romania dai paesi diciamo all'epoca dell'Europa non sviluppata che facevano lavoravano a mano questi buchi con l'uncinetto oggi questa società si chiama From Summer ed è una delle più grosse società di consulenza nel riciclo lavorano con grandi aziende come Top Shop organizzano una parte dell'Ethical Fashion Show di Londra che si chiama Estetica ed è gestita da due italiani dopo questa esperienza sono tornata in Italia e avevo avuto la fortuna di conoscere quella che si chiama la responsabilità sociale di impresa parliamo dell'inizio del 2000 nessuno in Italia sapeva cosa fosse sono stata chiamata dalla Camera di Commercio di Roma a fare un progetto e l'ho fatto per circa cinque anni in contemporaneo ho continuato a lavorare con progetti sostenibili finché ho conosciuto il gruppo Sextanzio che è dentro il mio network e abbiamo io ho tirato proprio sulle pietre di questo progetto adesso sono due alberghi diffusi una a Santo Stefano di Sessanio e l'altra a Matera e hanno questo concetto molto rigoroso del recupero della memoria anche lì progetto nato dal niente cioè questa persona gira in moto per l'Abruzzo viene da Milano a un certo punto vede questo borgo incastellato che faceva parte appunto della transumanza quindi io so tutto di questo racconto della transumanza borgo intoccato a causa della povertà degli anni 50 per cui tutti sono andati sono scappati sono andati in Belgio sono andati in Olanda a lavorare in Canada piano piano compra pezzetto per pezzetto di questo borgo abbandonato e diroccato semi abbandonato all'epoca c'erano 20 abitanti lentamente tira su le pietre cioè proprio decide di ricostruirlo in maniera rigorosa lasciando i muri neri che parlino quindi del freddo invernale recuperando i pochi mobili che c'erano in Abruzzo perché per la povertà sono stati tutti bruciati per il freddo eccetera eccetera e da questo è uscito un gran progetto un progetto di cui parlano io dico sempre dalla Svestia al Sud Africa dopodiché parto per Berlino continuo a lavorare con questo progetto e finisco all'ITB di Berlino due anni fa entro all'ITB di Berlino che è la fiera internazionale del turismo una delle fiere in questo momento più importante del mondo occidentale perché a parte per la grandezza ma soprattutto ha un numero di visitatori annuali altissimo e sta crescendo sempre di più entro all'ITB entro nel padiglione Italia e vi devo dire la verità mi sento male cioè proprio mi è venuta ancora più tristezza perché io mi sono andata via dall'Italia con una grande tristezza e dico ma com'è possibile com'è possibile che noi non riusciamo mai a parlare di noi stessi dando quell'energia quell'entusiasmo che invece abbiamo tutti quanti oggi ho fatto questa passeggiata mi avete riempito ancora di più di entusiasmo di quello che io ho e so di averne abbastanza e passo giro parlo insomma una presentazione che più standard non si poteva non c'era niente di eccitante se non che il padiglione della Puglia devo dire molto innovativo e non è un caso che in due anni la Puglia abbia fatto soprattutto la parte del Salento da quello che so il boom perché sono stati bravissime a promuoverlo in che modo era innovativo però? secondo me fino a un certo punto era innovativo perché un gruppo all'interno della regione ha capito che i social network e tutta la strumentazione dei nuovi media dei nuovi media per comunicare sono fondamentali oramai nel turismo e loro l'hanno capito prima di tutti gli altri al di là di regioni come il Trentino Alto Adige o altri che diciamo lo fanno già da tempo comunque sono già relazionati con la Germania e fuori quindi quando io sono entrata dentro il padiglio della Puglia ho avuto soltanto lì questa sensazione non di staticità ma di grande movimento in avanti ho guardato il padiglione mi sono fatto un altro giro ho provato a interloquire con tutte le istituzioni per capire appunto come si muovevano sul turismo come lo promuovevano eccetera eccetera sono uscita di lì e una mattina mi sono svegliata ho detto ma come è possibile che non esista uno strumento di promozione dell'Italia di qualità dell'Italia migliore e sostenibile quindi mi sono messa a riflettere piano 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 insomma ho creato un gruppo di lavoro e nel giro diciamo di sei mesi ho deciso di fondare questo progetto che si chiama appunto Italy Sustainable Travel Italia Neuco Horizon che adesso vi faccio vedere altre slide se ci riesco che è un progetto in fondo dal mio punto di vista molto semplice cioè noi stiamo mappando stiamo facendo quello che a parer mio avrebbero dovuto già far da tempo le istituzioni stiamo mappando l'Italia sostenibile di qualità adesso perché diciamo sostenibile di qualità dunque io ho usato il termine sostenibile perché in questo momento è quello che viene che racconta già il termine sostenibilità nel mondo da un'idea di quello che stiamo parlando però come mi ha detto un giornalista dell'Ecologist che è una piattaforma internet molto importante inglese che parla di sostenibilità oramai da 15 anni che è venuto a vederci dentro il nostro appunto all'ITB è venuto a incontrarci io quando mi ha detto che era il giornalista dell'Ecologist ho tremato perché ho detto oddio lui ha visto il nostro progetto e ci ha fatto i complimenti perché ha detto questo è il modo di parlare di sostenibilità in Italia perché in Italia per parlare di sostenibilità dobbiamo metterci tante cose dentro perché l'Italia la cosa bella dell'Italia è che l'Italia è fatta dalle persone cioè rispetto ai paesi non so come la Germania la Germania è un paese invece fatto dallo Stato lo Stato è molto presente è molto sociale è molto dalle direttive noi invece siamo volenti o nolenti anche per il nostro modo di essere delle persone molto creative quindi ognuno di noi ha la sua realtà e la sua creatività e questo progetto infatti racconta attraverso una mappa quest'Italia cioè l'Italia fatta da voi da voi che avete deciso una mattina di riprendere la vostra proprietà magari ereditata oppure di una piccola somma e metterla in un progetto ma non un progetto normale un progetto con delle caratteristiche sostenibili cioè di tutela del territorio tutela della memoria tutela di quello che è la nostra realtà identità e questo è fondamentale perché se noi non ci riprendiamo la nostra identità se noi non ricominciamo a raccontare la nostra identità abbiamo finito cioè diventiamo come tutti gli altri e invece no è questo che io dico noi dobbiamo capire dobbiamo riscoprirci prima di tutto smettere di parlare male di noi stessi e ricominciare a parlare bene perché ve lo dico io che sono da tre anni e mezzo a Berlino noi siamo speciali e questo ve lo dico ve lo dice una persona che adesso torna in Italia da turista e finalmente ha quella sensazione che io dicevo essendo nata a Roma mi chiedevo sempre ma chissà com'è per un turista arrivare a Roma la prima volta no? scendere dall'aereo prendere la macchina e trovarsi sembrano cose banali vedo facce un po' scettiche sembrano cose banali ma vi giuro che non è così io questa volta sono tornata a Roma con mia figlia e per la prima volta ho fatto la turista cioè ho cominciato a girare per la città e a vedermela bene e mi sono resa conto di quello che c'è nella confusione totale di come siamo noi ma ho capito perché ci amano infatti in questi anni a Berlinesi a me mi guardavano con l'aria scettica mi guardavano in faccia i tedeschi mi guardano ancora e mi dicono ma scusami ma che state facendo ma perché non vi date una calmata e non ricominciate da quello che avete me l'hanno detto loro non capiscono perché per loro noi siamo veramente uno dei posti più belli e una delle culture più interessanti questo ve lo cioè non è una banalità ve lo assicuro quindi noi siamo ho messo questo gruppo insieme vi racconto com'è questo gruppo a Berlino come sapete ci sono tanti giovani che stanno arrivando con delle grandi illusioni e questo è colpa dei media perché raccontano Berlino come la Mecca non è così Berlino prima di tutto se non sei il tedesco ti infogni almeno per un anno in una situazione di un inverno terribile ti senti un extraterrestre perché cammini per strada non capisci niente è molto depressiva quindi questi ragazzi arrivano e non sanno dove sbattere la testa io ho un altro gruppo un gruppo su Facebook che si chiama Bambini a Berlino fatto apposta per le famiglie e vi giuro ho tutte le testimonianze di queste famiglie intere che si trasferiscono e vanno nel panico perché non si rendono conto se qui tu gli dici a Berlino qua costa poco quelli arrivano pensano chissà che cosa e no è tutto difficile poi l'amministrazione è tutta in tedesca la burocrazia è enorme ma è quindi veramente l'impatto iniziale è difficile quindi a un certo punto io ho pensato come posso fare questa mappa e ho cominciato a mettere dei post su un altro gruppo che si chiama Italiani a Berlino e dicendo cerco persone interessate a reclutare aziende e attività in Italia con caratteristiche sostenibili chi fosse interessato ci contatti in questa maniera io mi sono creato un team di persone regionali anzi locali cioè io lavoro con ragazzi che Abruzzo Lombardia Puglia Campania Sardegna tanta Sardegna c'è molta Sardegna a Berlino che quindi contattano direttamente quelli cominciano fai conto con le trastrutture che conoscono quindi questo dà maggiore garanzia anche al progetto e poi piano piano la cosa si sparge a macchia d'olio poi avendo appunto lavorato tanti anni in Italia ho contattato Lega Ambiente che ha risposto immediatamente in maniera positiva e con loro stiamo facendo stiamo inserendo le loro strutture per ora all'interno della mappa passeremo a un passo successivo che è quello di farle entrare poi proprio dentro il progetto chi vorrà entrare delle strutture potrà entrare dentro il progetto e questo darà diciamo un'ulteriore credibilità al progetto perché insomma comunque le strutture di Lega Ambiente rispondono a tutta una serie di canoni di selezione come lavoriamo noi noi non siamo cioè noi siamo non siamo un portale di booking noi facciamo soltanto siamo una vetrina ok scusatemi non mi voglio far pubblicità perché non mi interessa però voglio farvi capire che cosa è fondamentale in questa cosa noi non chiediamo no quante scamere avete quante noi chiediamo alle persone di raccontarsi raccontare perché hanno deciso di intraprendere un cammino molto difficile in Italia perché è pieno di normative di cose di HCCP di insomma la burocrazia è enorme in Italia quindi ci interessa sapere e soprattutto ci siamo resi conto che chi decide di fare un progetto del genere lo fa per una scelta individuale cioè proprio dal cuore e quindi le nostre piccole le nostre piccole diciamo schede in cui raccontiamo i progetti sono hanno diciamo circa 25 immagini e 1500 battute un testo non molto lungo breve in cui appunto però l'utente che lo utilizza può non solo sapere dov'è il posto eccetera eccetera ma in più anche sapere chi c'è dietro a questo progetto perché l'hanno fatto che cosa gli ha spinti cioè quel primo passo verso la conoscenza non solo del luogo ma delle persone questo perché perché il turista oramai adesso colto o comunque il turista che viaggia adesso è interessato non solo al luogo ma anche alle persone cioè io oggi quando ho fatto questa passeggiata con voi oltre al fatto di aver visto paesaggi che io adoro e che in cui ho lasciato parte del mio cuore ho avuto veramente la la grande fortuna di incontrare delle persone con una storia con una passione la gente vuole sentire delle emozioni e soltanto voi gliele potete dare perché voi conoscete il vostro territorio voi conoscete la caratteristica di una pianta il gusto di una non so di un l'aroma di un vino cioè io per dirvi un'altra cosa che ho imparato stanno a Berlino venendo qua è a risentire gli odori cioè Berlino è tutto uguale è un posto bellissimo ma è tutto uguale è tutta ben organizzata è tutta facile ma non ha ad esempio non ha odori non ci sono odori è una città pulita talmente pulita che non ha odori io quando torno in Italia adesso sono proprio invasa dagli odori capito sono proprio io ieri mi sono fatto un giro per Bari mi è arrivato il profumo del mare e poi mi è arrivato il profumo del dopo San Nicola l'ho sentito però tentate di capire guardate che anche questo è un valore voi non vi rendete conto ma è un valore quando tu io oggi qui passeggiando non sapete i mille odori che ho sentito probabilmente più di voi perché voi siete abituati io invece non sono più abituata è come il sole a me adesso il sole mi brucia io sto nove mesi all'anno al grigio cioè rendetevi conto io quello che dico è che secondo me tutti gli italiani dovrebbero farsi due anni a Berlino e poi ritornare indietro perché allora lì capirebbero veramente che cosa si perde che cosa si perde e forse io ringrazio il Dio di essere chi c'è lì su di essere andata a Berlino perché se no non mi sarei inventata questo progetto però certo che vivo tipo con una nostalgia perpetua perenne per cui appunto sogno non so il pomodoro gustoso cioè lì arrivano lì ad esempio tu vai nei mercati c'è tutto il peperone il pomodoro ma non hanno gusto perché li prendono qui non maturi maturano nei camion arrivano lì tu li assaggi no no cioè sono buoni ma vi giuro mannaggia forse ve lo dovevo portare dovevamo fare la prova la prova del gusto capito infatti lì anche l'olio l'olio voi non vi rendete conto dell'olio l'olio è oro è oro è una cosa quindi ritornando al progetto noi vogliamo raccontare quest'Italia vogliamo raccontare le persone che ci sono soprattutto le persone vogliamo tornare alla persona partiamo da questa mappa che è uno strumento molto pratico e che diciamo che dovrebbe a breve diventare un'applicazione per telefonino di modo che chi viaggia potrà sì potrà certo è che comunque è già visibile sul telefonino perché questa piattaforma è tutta in HTLM5 quindi è tutta visibile sul telefonino la mappa in cui io spero di poter aggiungere nei mesi prossimi tutto il cicloturismo cioè tutta l'Italia ciclabile tutta l'Italia a piedi eccetera questo sono cioè io la mappa è a disposizione chi vuole collaborare per mettere per metterla basta che mi fai il lavoro tecnico nel senso che non possiamo fare tutto noi capito l'altra cosa che noi stiamo provando a fare io sto provando da due mesi avere un appuntamento con Trenitalia Trenitalia non me lo dà prima o poi ce la farò perché ho la testa dura continuerò perché io voglio mettere le piccole stazioni per permettere alla gente di muoversi con le biciclette o a piedi per poter raggiungere i percorsi di trekking quindi poi a un certo punto arriveremo a Trenitalia in qualche modo lo farò mi incatenerò sotto Trenitalia non so cosa farò ci ho provato pure con le gambiente no siamo non c'è una grande c'hanno troppo da fare però insomma vi prometto che ce la farò perché c'ho la testa dura quindi parte tutto dalla mappa quindi oltre alle strutture aderenti come vi ho detto sulla mappa sono sono segnate anche le strutture di lega ambiente e quest'altro progetto che si chiama Kids Art Tourism che sono con un'impronta che è un progetto fatto da una donna anche lei vive non vive in Italia che ha deciso di mappare tutta l'Italia culturale per le famiglie anche lei un progetto non finanziato nato dalla sua volontà che piano piano però le sta portando business cioè le sta portando soldi economia allora i siti dunque quando io ho deciso di fare questo progetto sono andata su Google Analytics e ho messo il termine sustainable travel horizon italian sustainable italy sustainable rise in Italia insomma morale la favola ve lo devo dire come termini non sono competitivi nel senso che appunto non vi allarmate nel senso che appunto non si parla di questo ho avuto ragione non si associano le parole sostenibilità Italia viaggi e anche in tedesco non si associano non hanno un'indicizzazione come non ha neanche un'indicizzazione però sustainable travel non sono ancora molto forti ok però io proprio per questo motivo andando contro tutti ogni volta che entrano nel mio sito arrivano quelli che mi propongono di rifarlo di ricosarlo eccetera eccetera la prima cosa che mi dicono ah ma tu dovresti unire i due siti perché io ho deciso di fare due domini uno in inglese che si chiama appunto Italy sustainable travel e uno in tedesco Italia no horizon questo perché perché il pubblico tedesco ama che gli si parli in tedesco cioè vuole un prodotto per lui può essere uguale a quello inglese nel senso che noi traduciamo direttamente però la lingua tedesca ad esempio io ve lo dico è una lingua super specifica è un po' come era l'italiano prima io adesso me ne sono raccorta noi oramai usiamo un italiano pochissime parole loro usano ancora non so tre parole per dire per noi una parola sola quindi per passargli le emozioni per passargli l'esperienza che noi abbiamo dobbiamo usare la loro lingua perché loro devono sentire perché ricordatevi che la gente vuole sentire quindi per questo abbiamo deciso di farlo anche tedesco è chiaro che questa cosa implica un lavoro doppio un lavoro no perché tu non hai un solo mercato ma ce n'hai due di cui uno molto settoriale che è quello tedesco però abbiamo deciso di farlo perché pensiamo e anche perché abbiamo fatto un'analisi cioè i tedeschi sono i più grossi viaggiatori in Europa sono quelli più interessati all'Italia quindi è fondamentale che si che fargli proprio un prodotto per loro per portarli per raccontarci veramente guardate venite venite a trovarci oltre ai siti abbiamo il blog che sono lo strumento dove i clienti possono raccontare quello che hanno fatto all'interno delle strutture della nostra piattaforma abbiamo chiaramente tutti i social network i social network hanno una cosa in più noi abbiamo un profilo una pagina facebook che è Italia Sostenibile e che vorremmo diventi nel tempo stiamo infatti pensando di forse di farla diventare un gruppo più che una pagina diventi un po' il luogo dove tutte le idee i concetti di questa nuova io sono nuova corrente perché questa è una nuova corrente di idee di progettazione possa confluire per fare rete perché la cosa io vi dico la cosa più importante adesso è fare rete cioè non proporre più l'Italia staccata ma proporla tutta insieme cioè una fetta di mercato che è quella dei cinquantenni ma io direi anche quarantenni per i tedeschi perché vanno in pensione prima di noi in realtà molti che è quindi di persone giovani che hanno tempo e che possono usare questo tempo lì poi c'è uno stato sociale che non vi dico hanno delle pensioni fantastiche quindi cioè usiamoli che possono venire in Italia non qua due giorni tre giorni molto di più allora proponiamogli dei percorsi in Italia proponiamoli un gran tour ridiamo a vita quello che era il gran tour per questo io voglio mettere le piste ciclabili le piste di trekking le piste dei treni tutti insieme senza senza la competitività toglietevi cioè non c'è competizione tra di noi toglietevi anche questo è un termine nuovo è un vecchio termine un termine americano fa parte degli anni 80 noi non siamo americani siamo italiani quello che ci ha sempre distinto dagli altri e che a me si sta perdendo motivo per cui me ne sono pure andata è il fatto che eravamo ci aiutavamo a vicenda ci ascoltavamo di che hai bisogno tu io c'ho questo tu c'è cioè rimettiamo in rete tutto perché è solo da questo che noi possiamo di nuovo riproporre quello che loro cercano vi faccio un esempio stupido l'altro giorno io sono andata in un bar una stupidaggine però vi spiego per farvi capire chi abbiamo davanti ho preso un cappuccino al di là di come era il cappuccino a un certo punto normalmente ti bevi un cappuccino ti bevi un bicchier d'acqua no? è uno più uno ti viene sete ti sei svegliato la mattina ho chiesto un bicchier d'acqua e la cameriera mi ha detto che loro no i bicchier d'acqua li davano soltanto con gli espressi cioè vi rendete conto? vi rendete conto? cioè per dirvi questi vengono qui noi non è che gli diamo il bicchier d'acqua noi gli diamo il cappuccino il cornetto l'ospitalità il sorriso il calore li tocchiamo ad esempio noi tocchiamo loro cioè non dovete diventare come loro dovete essere voi scusatemi spero che non siano troppo delle banalità perché non le sentite come banalità ma vi giuro che noi abbiamo questo queste sono questo la nostra entusiasmo il nostro la nostra energia che loro non forse il fatto che la vita qui è molto più complicata ci rende anche appunto molto più creativi molto più vogliosi di fare e di dare anche quindi fate rete fate rete cioè io oggi qua quando abbiamo fatto la passeggiata dopo ne parla ho visto un progetto io già vedo due ho due idee in testa poi ve le dico alla fine perché prima voglio che lo fate voi e poi io vi dico le mie idee quindi mettetevi insieme toglietevi l'idea non esiste la competizione esiste la collaborazione l'unione fa la forza ve lo garantisco allora io vi ho portato questa immagine questa è l'immagine che noi abbiamo diciamo del nostro stand alla ITB allora prima di tutto noi non eravamo nel padiglione italiano per due motivi prima di tutto perché costa moltissimo stare al padiglione italiano questo ve lo devo dire i prezzi che mi hanno proposto erano altissimi e noi non ce lo potevamo permettere seconda cosa però io comunque ho chiamato per sapere perché mi interessava seconda cosa abbiamo deciso di essere in questo padiglione della ITB che è un padiglione dedicato ai viaggi d'avventura perché è nato dieci anni fa e adesso anche al turismo responsabile e sostenibile che vuol dire che noi avevamo accanto un canadese e dall'altra parte un sudafricano ed era c'era tutto il mondo in quel padiglione allora il nostro stand era molto semplice ma vi giuro abbiamo vinto un premio lo sapete perché? perché era il più caldo come siamo noi era il più accogliente la gente passava a parte che la cosa più divertente di tutti era vedere la faccia della gente la gente passava leggeva Italy Sustainable Travel Italia Non Correta Ryzen aprivano e vi dico la bocca aperta non capivano all'inizio ma di che state a parlare guardavano le immagini proiettate nel video impazzivano e ci cominciavano a chiedere ma che cosa state facendo che cos'è sostenibilità Italia ma io gli dico ma come non lo sapete siamo uno dei paesi più sostenibili abbiamo mille certificazioni per questa cavolo di sostenibilità ho letto una volta un articolo tedesco in cui diceva l'Italia è il paese più certificato per quanto riguarda la sostenibilità e non faccio commenti però quindi la gente non lo sa io vi dico questo la gente non lo sa c'è un buco un buco enorme da riempire ed è importante che lo riempiamo perché perché questo è il futuro non è nient'altro non sono le macchine non sono scusate non è noi siamo questi io mi ricordo quando dunque vent'anni fa forse di più quando cominciava l'Europa io mi ricordo qualcuno adesso ho cercato di trovare chi lo disse ma qualcuno disse in Europa la Francia sarà il bacino agricolo la Germania quello industriale ed Italia sarà quello culturale artistico il patrimonio quindi o noi ripartiamo da questo o non arriviamo a nessuna parte e c'è tantissimo da fare c'è una quantità di professioni che si possono creare che basta soltanto mettersi veramente ricominciare a pensare un'altra cosa ricominciate a pensare io c'ho la gente che mi arriva questi ragazzi che mi arrivano a Berlino master contro università poi gli chiedo scusa ma ti inventi un progetto mi dici che cosa potresti fare con questa piattaforma oh ma io non ci riesco non mi dicono niente ma che è successo che ci hanno fatto ci hanno tolto la possibilità di pensare non lo so che cosa ci hanno fatto cioè ricominciate a pensare guardatevi intorno odorate riempitevi di sta roba cioè fate un'overdose non so che di chiudetevi una settimana da qualche parte pensate perché qui c'è veramente tantissimo cioè ve lo garantisco ve lo proprio ve lo garantisco vabbè facciamo network partnership eccetera ve l'ho detto come si aderisce al progetto ve l'ho detto le 1500 battute non abbiamo soltanto bio eco ma anche appunto chi fa tutelare il patrimonio tradizioni artigianali non parliamo appunto di quel patrimonio classico Michelangelo Raffaello noi vogliamo parlare del patrimonio quello vero quello fatto dalle persone ok quello fatto dalle realtà quindi questo è un patrimonio quello che abbiamo visto oggi è un immenso patrimonio che ha un valore enorme e la cosa incredibile in Italia che mentre negli altri paesi questo patrimonio è stato standardizzato dalle istituzioni qua siccome le istituzioni non me ne vogliate sono un po' un disastro cioè il turismo non nessuno cioè si è investito in tutto meno che nel turismo ok perfetto cogliamo quest'occasione perché non ci hanno ancora messo le mani sopra il patrimonio siete voi gestitevelo voi perché ce l'avete cioè io dai racconti che mi arrivano io so che avete la sensibilità per capire cos'è vero capito e qui appunto potrete questa è la masseria ruotro dove siamo il racconto che mi hanno mandato come quello che loro fanno insomma lo conoscete e quindi questo racconto infatti per noi insieme all'alfabeto che abbiamo redatto è la garanzia dell'autenticità di quello che ci stanno raccontando anche perché quello che diciamo è attenzione non ci dite cazzate perché se ci dite cazzate nel giro di due mesi vi arriva qualcuno vi sputtana sui social network e noi vi sputtaniamo pure nel senso che se ci togliete credibilità ve la togliamo pure noi quindi è fondamentale questa cosa qui è semplice vi rendete conto quanto è semplice? cioè c'è un lavoro dietro enorme però come idea non è così così difficile abbiamo come partner questa associazione italiana imprenditrice legambiente e questo Cat Kids Art Tourism probabilmente fra un po' dovrebbero entrare le oasi del WWF quindi se riusciamo a mettere legambiente e WWF insieme stappo una bottiglia di champagne ma forse ci riusciamo gliel'ho detto pure a loro è stato divertente perché prima ho chiamato legambiente e gli ho detto guarda sono stata contattata al WWF e ti dispiacerebbe no ma perché me lo chiedi così e poi sono al WWF e gli ho detto avete visto che abbiamo legambiente oh beh non c'è nessun problema però insomma se ci riusciamo si si ma la cosa divertente è che io sono fuori capito io mi posso permettere queste cose perché sono a Berlino se ero in Italia non me lo facevano fare capito ma il fatto che io comunque sono fuori un progetto che sta fuori come dire io sono quindi sfruttiamo anche questa cosa allora adesso vi do un po' di numeri no perché comunque anche giusto avere una parte diciamo dalla parte emozionale passare invece a quella dei numeri questa è la Merkel a Ischia quest'estate questa prima parte è perché i tedeschi quali sono le preferenze dei tedeschi nella scelta della vacanza quindi non solo in Italia in generale come vedete la natura e il paesaggio cioè basta finito possiamo andare a mangiare cioè ve l'ho detto l'aria buon clima che dite c'è buon clima qua la possibilità di relax devo dire che è sorprendente questo per quanto mi riguarda che uno è portato a pensare il mare alla qualità è portato a pensare alla qualità del servizio che può percepire fruendo di una struttura in realtà diciamo questi indicatori ci fanno capire che al primo posto è il paesaggio è il luogo e quindi diciamo che il valore primario dovremmo dire no? sì quindi questo diciamo gioca a nostro favore per chi naturalmente crede in questi in questi valori è certo assolutamente quindi insomma io credo che abbiamo cioè i primi tre punti ce li avete le percentuali non arrivano al 100% perché sono più domande nella stessa cosa quindi voglio dire siete nei primi tre punti cioè vado avanti questo era il mercato tedesco mercato tedesco io su questo vi ho portato questa volta sono i tedeschi poi ve le posso no ok come si informano sulla meta turistica navigare su internet siti di organizzazione associazioni turistiche siti delle strutture turistiche eccetera allora io direi che il secondo noi non lo possiamo prendere in considerazione perché il casino che c'è in Italia della proposta di come si viene proposta il turismo è un disastro cioè è una cosa che a me mi fa venire dei nervi mostruosi perché cioè io sono una che si arrabbia io ho deciso di non essere più democratica nella mia rabbia ma di essere veramente arrabbiata cioè io vi dico una cosa sono mi sono sono stata anche alla fiera del turismo di Londra a novembre no perché ero stata all'ITB sono andata di nuovo sono andata a Londra per proporre so per farmi un giro per capire non è più diciamo una fiera veramente interessante la situazione italiana nel modo di proporsi sempre uguale però io che ho detto ok sono qui lo sfrutto sono andata da tutte le regioni italiane regioni province sotto province comuni perché tutti si presentano in maniera separata poi non capisco le ATP non esistono più non ci capisco non ci capisco più niente fatto sta che io ho chiesto a tutti gli ho detto sentite io sto facendo questa mappa non vi chiedo soldi anche a Trinitalia gli ho detto guardi io non gli chiedo soldi perché lui mi ha detto subito non ci abbiamo soldi perché abbiamo investito con l'ENIT io non voglio soldi io vi chiedo di usare la mappa quindi io gli ho detto siccome le regioni hanno diciamo dei contenuti pazzeschi sul territorio no? beh sì sì ce l'hanno però ce li hanno ce l'hanno beh da regione a regione però comunque non so ce li hanno c'hanno tutti quei le brochure dei plian insomma ce li hanno il problema è che non sai dove sono no? perché uno un ufficio ha fatto una cosa l'altro ha fatto quell'altro non è niente unito io gli ho detto perché non mi non ci linkiamo con il mio sito così io quando uno entra nella struttura feconto ma se ria ruotolo ha poi il link diciamo dei contenuti culturali della regione della regione Puglia cioè mi clicca là mi si apre la parte no? dove delle della storia dei musei della no? e quindi anche diciamo quel lavoro che loro hanno fatto può essere anche utilizzato dall'utente che usa la mia mappa oh ma ci volete credere che non mi ha risposto nessuno? cioè questo è un po' deprimente perché io dico anche lì mi sono detto vabbè prima o poi lo faremo noi mi inventerò un'applicazione ragazzi voi che fate applicazione inventatevi un'applicazione che i locali raccontano nel loro posto la sta facendo quest'indiano in India c'è un indiano che sta facendo un progetto di turismo responsabile ha cominciato con 40 famiglie adesso sono più di 4000 persone lui praticamente è andato in una delle zone più depresse dell'India ha cominciato a tirare su questa zona con il turismo porta questo turismo turismo responsabile che è diverso da quello sostenibile il turismo responsabile interviene in aree appunto fortemente depresse e porta in maniera responsabile attività economica lui comunque si è inventato una cosa che adesso è finanziata dal governo indiano per cui un'applicazione per cui i locali racconteranno delle loro zone inventatevi questa applicazione secondo me ci fate pure i soldi poi me la prestate però perché non mi dite di no perché poi mi arrabbio allora quindi navigare su internet allora mare magnum internet ok l'Italia è tutta un sito sembra potremmo fare una canzoncina su questa cioè è un casino ma io dico ma non è più facile appunto una mappa uno si sceglie la zona clicca trova dove mangiare dormire fare e si muove là come mai non ci hanno pensato allora con quanto anticipo prenotano queste sono le anche su questo credo che vi stupisco perché penso che tenete presente che c'è una grandissima percentuale se vedete da uno a due mesi questo perché perché in Germania poi più avanti c'è il sito rispetto a noi le scuole cominciano ad esempio mia figlia comincia quest'anno la scuola la prima di inventare il 10 di agosto cioè io ho finito la mia vita personale che cosa vuol dire questo perché perché loro fanno poi come in Inghilterra voi lo sapete che in Inghilterra lo stesso esistono le bank holiday cioè ogni tot di mesi io ad esempio so che adesso dal 30 al 12 di ottobre avrò queste 12 giorni di vacanza ora mi devo organizzare verrò in Italia magari vengo a ritrovarvi qui perché voglio fare un giro delle strutture voglio fare questo video con mia figlia per le famiglie nelle strutture da mandare online eccetera eccetera quindi uno e due mesi perché appunto ci si deve organizzare prima vi dico che è talmente così che questo sito che andrete a vedere che io poi vi do da credo che ha un'anticipazione delle vacanze scolastiche di tre anni cioè io mi posso organizzare le mie vacanze per tre anni prima e questa è l'efficienza tedesca usiamola sfruttiamola usiamola va beh questa è la tipologia gli appartamenti gli hotel gli ostelli i campeggi le pensioni e altro probabilmente vanno da amici sai ci sono molti emigranti italiani eccetera è interessante vedere da soli una buona percentuale quindi la mappa in un certo senso ha senso poi loro sono iper tecnologici nel senso che anche se prima di venire qui a Berlino qui ho letto un articolo proprio all'aeroporto di Berlino conoscete il famoso gruppo Gruppon lo conoscete no? che ha sede a Berlino adesso si spostano in Irlanda per le tasse perché pagheranno meno IVA lì vengono in Irlanda però comunque Gruppon sta avendo una grossissima crisi perché perché la qualità si paga cioè la gente lo sta ricominciando a capire la qualità si paga cioè non c'è niente da fare non ti puoi comprare un paio di scarpe online ma non ti puoi neanche comprare a mio parere io sono dell'idea e poi vi racconto un altro progetto che sta per partire sono dell'idea che anche la vacanza fra un po' bisognerà un po' ritornare al contatto umano cioè tutte ste vacanze comprate su internet secondo me fra un po' soprattutto per un certo tipo di target non andranno più sì ci sarà sempre capito non dico di no però se li possiamo pure dare un altro servizio è ancora meglio che tipo di vacanze relax vacanze in città nella natura 19% nella natura è una bella percentuale nella vacanza relax probabilmente era incluso il mare il caldo però guardate ad esempio la vacanza in montagna loro sono loro amano moltissimo anche montagna cioè non sono percentuali bassi non abbiamo uno 0,1 2% cioè loro amano l'esperienza loro amano l'attività la vacanza anche secondo un'altra idea che io mi sono fatta in questi anni e che la vacanza diciamo totale relax tesi accanto alla piscina non funziona più la gente oramai c'ha poco tempo è avida di conoscere è avida di fare è avida sai siamo giornate intere seduti col sedere davanti a un computer ci stiamo rincoglionendo in una maniera lucidante quindi quando usciamo fuori io ad esempio ieri sono arrivata a Bari sembrava una bambina cioè mi sentivo come quando sono arrivata a Bari sono arrivata dentro l'albergo mollato tutto sono uscita ho cominciato a camminare e ieri sera ve lo dico che ho fatto me sono andata a vedere l'opera perché sono passata io stavo all'albergo Oriente Hotel Oriente parte che tu entri ecco anche lì gliel'ho detto cioè perché mi tengo un ceci in bocca mi entro nella camera mi danno sei il foglietto benvenuto tutto quanto ma non mi dicono quello che c'è intorno cioè io non avevo neanche avuto il tempo di vedere dove andavo ve lo confesso cioè non sapevo dove era sto hotel per fortuna che quello che mi è venuto a prendere all'aeroporto era molto gentile mi ha spiegato mi ha detto guardi là c'è il mare là c'è il centro storico quindi ero due passi da tutto quindi io sono uscita prima sono andata al mare vi confesso mi sono messa i sandali ero proprio ora me sono tedesca mi sono messa i sandali la magliettina a maniche corte mi sono lavata i capelli capelli bagnati mi sono andata a sentire il profumo del mare e poi mi sono incamminata sulle mura a parte che sono rimasta proprio cioè una cosa Bari è bellissima io non lo sapevo io non lo sapevo che Bari è bellissima ma nessuno cioè come cavolo è possibile che non si sappia che Bari è così bella ma Bari è una cosa pazzesca cioè ci sono ho fatto delle foto poi magari ve le mando le metterò sui miei social ci sono dei particolari pazzeschi dei tu ci li vedi la colonna la colonna poi invece poi d'altra parte ti giri trovi appunto la basilica di San Nicola dentro pazzesca cioè quella basilica è una cosa di architettura incredibile cioè ma mi sono mangiata il gelato come tedeschi cioè a pranzo invece di mangiare mi sono fatta una coppa del gelato e poi ho visto giri in bicicletta quello mi ha fatto molto piacere tenete presente che io a Berlino non ho non ho la macchina Berlino è tutta ciclabile quindi io vado ai laghi in bicicletta io porto mia figlia tutti i giorni avanti scoperto che faccio 20 km al giorno in bicicletta tutta ciclabile vi rendete conto? cioè e non hanno il clima che abbiamo noi ma ma perché? faccio soltanto la filiera della bicicletta un esempio mettete caso che Roma non lo so però una città una grande città veramente diventa tutto ciclabile vi rendete conto tutto quello che si può costruire intorno a questa cosa? i giovani potrebbero fare dei piccoli negozi di restauro di bicicletta ad esempio di rimessa a posto di biciclette i costruttori di biciclette avrebbero più vendita di biciclette quelli che fanno i pezzi delle biciclette i bar per le biciclette il fiume navigabile per le biciclette cioè c'è veramente anche su quello io non capisco perché non si fanno ste cose no basta non dovete dire così però però devo dire che in Cuglia qualcosa è fatto no infatti penso che siamo all'inizio ma grazie a te senti uno dei primi il primo il primo il primo ciclo ciclo turismo è quello che è entrato nel progetto è quello di Salento Bici Tour ma da Cuglia stai investendo in progetti stai investendo perché i giovani stanno proponendo progetti in mente locale poi la messa in rete di tutte le vecchie stazioni ferroviarie questo oh ma questa cosa voglio dire almeno noi abbiamo iniziato il problema ma le risposte te le diamo dopo perché tu continui a dirci perché 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 le sai perché manchi da tre da tre anni lo so benissimo quindi lo sai quindi voglio dire che noi siamo pronti siamo creativi il problema è che lì continuate a cambiare chi gestisce la politica noi non siamo riusciti a cambiarla cioè questa è la risposta no ma voi non dovete però no e quindi dobbiamo iniziare da soli ti do ragione ma basta cioè ma ti do ragione pulitevi la testa però in Puglia siamo pronti infatti sono qua se no non mi ha invitato il Piemonte ma avete invitato voi dunque a proposito delle biciclette voglio dire anche a Bari si è tentato di anche voglio dire non solo con le piste ciclabili ma addirittura è stato messo un servizio di affitto di noleggio di biciclette però su 300 biciclette che sono state messe a disposizione ne sono sparite 299 quindi voglio dire purtroppo abbiamo anche questo discorso proprio culturale perché molti sono pronti però c'è da ma anche a Roma credo perché ho visto che sono spariti tutti i ciclo con la realtà le hanno rubate anche a Roma sì sì anche a Roma vabbè però uno impara allora la prossima volta le 300 biciclette le fai per i turisti e te ne sbatti dei locali poi piano piano i locali quando capiranno che con le biciclette si fanno i soldi vedrai che arrivano cioè bisogna dobbiamo ancora essere più creativi di quello che siamo va bene la scelta delle vacanze per i tedeschi al ristorante passeggiare 67% passeggiano ma io sai quanti ne vedo per Berlino con le bacchette capito? questi passeggiano vi faccio un esempio Mallorca io sono cresciuta a Mallorca perché mio padre l'ha scoperta nel 64 e quindi ci portava in vacanza lì quindi ho visto tutta la trasformazione da Franco eccetera loro come hanno c'è una parte che è distrutta perché hanno fatto un turismo piegato alle esigenze dei tedeschi e vabbè e quello dimentichiamocelo non ci interessa la parte nord invece è una vive vive soprattutto non ci credete ma vive soprattutto d'inverno cioè soprattutto la destagionalizzazione perché? perché hanno rimesso in uso tutti i camminamenti interni quindi Mallorca è tutta attraversabile a piedi io sono stata varie volte anche a Pasqua o nei periodi insomma invernali e tu proprio li vedi che camminano in mezzo e si fermano lì e mangiano là insomma c'è tutta una mappa insomma con tutte le cose da fare che cosa cercano i turisti tedeschi in Italia? eccola là l'affidabilità voi dovete capire loro sono abituati bene cioè soprattutto quello che dici è cioè non se voi dite bianco è bianco se dite nero è nero non gli fate il gioco delle tre carte perché quelli non tornano più quindi una cosa molto italiana che io sto imparando sulle mie a mie spese lì noi siamo molto no allora questo no dimenticatevelo non date più di quello che avete non proponete più di quello che avete siate chiari parlate soltanto di quello che avete poi se ne esce fuori la cosettina in più nel momento ma quando proponete una cosa è quella e basta non vi andate non vi andate a incasinare con cose in più cose che forse ci sono no forse non esiste per loro è così e basta ok la proposta turistica è questa perché loro lo scelgono per quello che leggono non lo scelgono per quello che non non c'è quindi infatti chiedono informazioni dettagliate sempre aggiornate sulle strutture sui prezzi e sulla disponibilità di posti una veloce risposta alle richieste perché se no passano ad altro questo ve lo garantisco e poi proposte turistiche particolari cioè o vi inventate cominciate a pensare a qualcosa di nuovo oppure quelli se ne vanno in Turchia in Croazia in Marocco cioè il mondo oramai è aperto i low cost sono arrivati dappertutto quindi o voi cominciate a inventarvi qualcosa di particolare la famosa vacanza esperienziale oppure io mi prendo l'aereo e me ne vado in Turchia mi faccio cinque giorni a Istanbul e lì sai quanta esperienza faccio cioè umana quindi è importante che proponiate progetti di turismo esperienziali legati però chiaramente al territorio ok cioè non il giro in moto a 300 all'ora no lavorate con quello che avete anche perché è la cosa più economica cioè anche su questo tenete con che voi avete un mondo intorno che vi dà la possibilità di creare delle cose magnifiche a costo quasi zero cioè il giro che tu ci hai fatto fare oggi non ti posso spiegare come può essere come che potenzialità ha se glielo finisci poi con un picnic in mezzo al prato in cui però gli fai arrivare attenzione per un target medio alto se vuoi guadagnarci un po' di più in cui gli fai arrivare il vino freddo gelato così li ubriachi pure un po' questo anche per gli inglesi no? vero? gli ubriachi pure un po' quindi li rendi ancora cioè proprio gli lasci un ricordo di piacevolezza con gli odori il mangiare hai fatto hai risolto costo per te quanto? cioè parliamo nei costi di una cosa del genere il giro in asinello tu hai detto la prossima volta in asinello io ci ho pensato cioè pensa che bello non cioè usate quello che avete usate quello che avete in maniera sostenibile e soprattutto senza fare i gruppi troppo grandi perché i gruppi grandi distruggono cioè ricordatevi neanche questo non non è il numero che fa il guadagno anzi il numero grande è distrutto se noi quella camminata la facevamo in più persone avremmo distrutto la fai dieci volte capito? in dieci giorni è distrutto cioè no quello no e a quel punto poi non è più niente allora che tipo di attività andare al ristorante questo dovete capire io ho anche la prima cosa che penso quando ero in Italia non me faccio una magnata perché proprio si manca i gusti le cose passeggiare 67% si abbinano capito? quindi passeggiare il ristorante anche o comunque picnic insomma inventatevi delle cose speciali beh visitare le attrazioni turistiche però è la cultura che probabilmente li hanno divisi e si sono un po' impallati insomma no mi sono sbagliata questo l'avevamo già visto i tedeschi cercano inoltre va bene il paesaggio il mare il centro cittadino uno standard elevato e autentico un'assistenza personalizzata per questo vi dico che secondo me bisogna un attimo anche ripensare alla proposta di internet cioè benissimo fare il booking online ma bisogna anche dargli la possibilità di interloquire cioè di chiamare anche perché se uno poi dialoga può anche creare il pacchetto fatto apposta cioè tu hai una proposta tipo tre giorni alla masseria a ruotolo in cui fai una serie di attività ma magari ci puoi o togliere delle cose o metterne altre se senti che l'esigenza dall'altra parte è diversa e sono interessatissime le attività di degustazione chiaramente le enogastronomiche a conoscere la tradizione come si fanno le cose la manualità eccetera eccetera e poi le attività sportive perché loro sono molto attivi quali sono i siti che i tedeschi consultano più per organizzarti che per la nazionale in Italia la maggior parte va per gli stessi per ora gli stessi e comunque tieni presente tieni eh no dicevo su Expedia acquistano il volo il singolo servizio il volo più l'albergo eccetera acquistare un'esperienza quindi con un tour eccetera magari non è un po' più difficile perché quelli sono sono portali più generalisti insomma sì sì penso che comunque la risposta sia in quello che hai detto alla fine come tipologia di offerta turistica quindi anche come noi stessi quando andiamo comunque su Booking o su Expedia non andiamo certo ad acquistare la tipicità della Puglia la gente che ci lavora abbiamo delle informazioni standardizzate quella è un'offerta standardizzata e l'offerta che dà comunque un wholesaler la maggior parte sì però per quando prima Ottavia parlava della qualità costa è normale che un operatore qualsiasi operatore qualsiasi negoziante si sceglie anche il target del 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 turista per quanto ci riguarda io sarei più interessato a introdurre la masseria a ruotolo come altre strutture a dei turisti che comunque siano informati e non un turista più informato e più interessato alla tipicità della Puglia che dieci che vengono qui perché hanno trovato non so un'offerta un Groupon una cosa cioè sono interessato più a quello perché quei due che sono veramente interessati mi porteranno altri dieci avendo parlato proprio dell'esperienza pugliese altri dieci che sono altrettanto interessati e altri venti che sono altrettanto interessati ma a quello che noi abbiamo non al perché è stata offerta una camera a metà prezzo io sono interessato a quel target personalmente come operatore io mi scelgo il mio target te l'ho detto poi all'inizio non non c'è ancora una cosa del genere cioè ti sto dicendo che non esiste non c'è cioè noi abbiamo la possibilità di creare come Italia un modello che magari poi si può replicare anche in altre situazioni per questo dico che si compra il pacchetto con tutta una serie di servizi di offerte ma dietro questi servizi dietro queste offerte ci sono le persone che fanno la differenza e che fanno la qualità quindi secondo me è questo che poi distingue e che poi fa ritornare il turista e che poi c'è il passaparola perché in un sito trovi l'offerta poi sta a te rendere un certo tipo di servizio quindi non puoi trovare il sito dove hai la garanzia che ti troverai bene ti offrono il pacchetto poi sta a te metterci il contenuto e quindi fare la differenza e quindi qui c'entra la nostra creatività qui c'entra la nostra inventiva qui c'entra tutto cioè siete voi che dovete fare la differenza io mi sono trovata ad ospitare una scolaresca in biblioteca ma io di quella visita in biblioteca ho fatto una promozione del territorio perché io prima che venissero queste studentesche mi sono resa conto che sulla strada c'era l'unico forno a legna che produceva taralli sono andata al sacerdote sono andata a dire vedi abbiamo questo gioiellino di chiesa facciamoglio vedere sono andata cioè quella giornata l'ho resa indimenticabile perché ho fatto sia pure di una visita guidata in biblioteca una promozione del territorio ma me lo sono inventato io quindi è qui che c'è la differenza dobbiamo metterci del nostro sì no vi dovete dovete crederci cioè io io sono partita dall'Italia che non ci credevo non credevo più neanche nelle mie capacità il problema è anche questo c'hanno proprio un po' ci hanno tolto tutto non so perché per tenersi invece bisogna prima di tutto dovete smettere io camminando per Bari mi ho divertito perché sentivo un po' i discorsi delle persone siete tutti così angosciati io lo sento sentivo no queste due persone tutte le persone li sentivo che parlavano a due a due li sentivo con un angolo proprio lo senti perché io vengo invece da un paese dove vi giuro e forse questa è la cosa bellissima nella Germania io me ne sono andata via tre anni e mezzo fa quindi come dire mi sono per una volta nella mia vita mi sono concessa di non vivere troppa angoscia ma io me ne sono andata via perché ho pensato se rimango qua vado de fo cioè comincio veramente io poi abitavo accanto al Parlamento proprio me stavano venendo dei nervi c'è una matta lo dico sempre un altro aneddoto accanto a casa mia io abitavo proprio vicino a piazza del Parlamento c'è questo bar a piazza San Lorenzo e Lucina che è il bar dove si riuniscono ciampini dove si riuniscono i governi cioè tu a seconda di che governo c'è vedi come sono cambiate le cose e quindi io ho visto ogni volta vedevo questi cambiamenti come sono vestiti come le donne ecco anche l'altra cosa io mi sono andata via e ho fatto una bambina e ho detto madonna mia l'uso del corpo femminile in Italia sta proprio non c'è più una regola cioè non c'è più una cosa comunque questo è un altro discorso in tutto questo c'è una vecchia c'era una vecchia vicino a casa mia che andava in giro per questa zona qui e scriveva sui muri culo culo e culo bersani culo berlusconi culo e io ho pensato se resto qui fra un po' mi ritrovano a me a scrivere culo culo e culo bersani culo perché mi sentivo svuotata cioè io ho tirato sulle pietre di Santo Stefano di Sessaglio ok e ho avuto anche la fortuna di che è un progetto che va va benissimo cioè ho fatto la comunicazione all'ufficio stampa continuano a scrivere cioè quasi non devo fare più niente mi contattano i giornalisti le cose cioè quindi ho avuto un grandissimo esito cioè eppure io mi sono sentita finita cioè mi sono sentita in un paese dove la mia professionalità la mia creatività non serviva più a niente e una mattina mi sono svegliata e ho detto oddio ma io chi sono allora ho detto via allora quello che vi voglio dire io qui io spero che questo seminario serva proprio a spiegarvi che non è così siete siamo pieni pieni di roba che loro non hanno siamo pieni di basta solo ricominciare a crederci credeteci perché è così ve lo garantisco la signora ha fatto una cosa facilissima eppure enorme quindi da questo esempio qui cioè ci dovete credere veramente veramente va organizzato strutturato bisogna dare serietà perché loro cioè giustamente se tu gli proponi insisto quello che dite fate non fate di più né di meno però fatelo quanti turisti tedeschi disabili vengono in Italia non lo so però se vuoi te lo faccio sapere però ad esempio io questa è una è una parte della della piattaforma che voglio sviluppare ecco perché lì ci sono grandissimi allora aspetta premessa in Germania vi devo dire una cosa una cosa che a me mi ha fatto un po' mi fa un po' paura loro hanno un rapporto con la disabilità molto non bello cioè vi racconto una cosa mia figlia io non ho mai incontrato un bambino down da quando sono a Berlino per dirvi cioè loro vanno hanno diciamo per tutto quello che è disabilità fisica no sono avanti le metropolitane hanno quasi tutte le metropolitane non hanno gli ascensori le strade sono fatte a poco cioè la mobilità fisica per il disabile fisico non c'è per quanto riguarda la disabilità mentale rispetto a noi e in questo anche in questo siamo siamo grandi noi noi siamo avanti loro hanno diviso loro hanno le scuole per disabili mentali le scuole per i bambini normali e questa è una cosa secondo me orrenda perché io vengo dagli anni 70 dove il disabile mentale era in classe con noi e ci ha fatto bene perché ci ha fatto capire la diversità loro no adesso stanno ricominciando ma sai perché? perché hanno meno fondi solo perché hanno meno fondi se gli date la possibilità tutti perché loro sono un po' come gli americani sono gattari canari quasi trattano meglio i cani dei bambini questo ve lo dico hanno proprio io vi dico che questo ci sono due settori che voi dovete prendere molto in considerazione quello dei viaggi con gli animali e il mondo gay perché il mondo gay in Italia ancora non gli si dà molto spazio ma dovete prenderlo in considerazione perché i gay sono single cioè nel senso non sono solo cioè sono anche in coppia ma non hanno figli hanno tanti soldi e soprattutto sono in carriera e sono molto sensibili quindi per quanto riguarda la lingua parlano l'inglese ecco allora per quanto riguarda la lingua io vi do un consiglio se avete la possibilità di avere persone che parlano in tedesco usatele magari giovani che fanno l'università e che fanno germanistica e che quindi hanno imparato la lingua e che potete appunto se devono utilizzarla possono fare pratica vi possono aiutare in questo e quindi possono costare meno invece di non so di traduttori madrelingua eccetera eccetera però dove è possibile introdurre il dove è possibile introdurre il confronto insomma la possibilità di avere una persona che traduca direttamente in tedesco è meglio che loro lo sanno l'inglese ma ti giuro io sono arrivata che non parlavo il tedesco e adesso non è che lo parlo bene mi sembro sempre un po' come Alberto Sordi però loro amano loro prima che si mettono a parlare in inglese preferiscono che tu parli in tedesco questo ve lo dico proprio dobbiamo chiudere adesso facciamo la pausa ci sarà l'intervento di una persona come si è da ruoto cui dovremmo andare giù dei appoggiati fanno la dimostrazione tu puoi anche parlare della tua seconda parte nel pomeriggio la mia seconda parte è fare a voi una cosa un'attività se vi va lo facciamo dopo la dimostrazione possiamo finire un secondo questo sono non so quante slide sono poche no questo è per voi perché spezzarlo qui mi sembra questo è dunque questo le famiglie tedesche con i figli ok queste sono appunto prendetevi questo sito che è il sito delle feste delle festività tedesche che non sono uguali per tutto per tutto per tutta perché la Germania è divisa è federale quindi a seconda della regione i land hanno le feste diverse ad esempio adesso io giovedì era festa era questa vacanza di Pentecoste loro ed era un giovedì era un ponte quindi tenete fatevi proprio stampatevi il calendario e qui vabbè la fine questa cosa di prendere in considerazione questo l'importante appunto tra si ho preso quello più semplice il calendario ve lo scaricate non è troppo in tedesco insomma vabbè il degrado ambientale questo questa è la distruzione e poi vi volevo fare soltanto due esempi velocemente questa è l'offerta turistica tedesca mar baltico target famiglie 90 euro al giorno per persona con colazione che cosa fanno nolleggio di bici campi da pallavolo ping pong trattamenti di benessere ristorante biblioteca quindi insomma ma niente di speciale questo invece quello che propone la masseria ruotolo che voglio dire appunto per farvi capire quanto abbiamo di più noi da proporre e questo invece è un target alto foresta nera badem badem trattamenti benessere e matrimoni 560 euro al giorno camera doppia con colazione e questo invece l'esempio di sextanzio abbiamo anche una colazione un buffet con prodotti tipici e visita guidata anche vedete è Matera sì 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 e ora tocca a voi dopo se vi va facciamo questo questo piccola cosa interattiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti